Tengono pochi tempi e vi scrivo due pensieri, che mi abbiano in casa, forte forte già era ieri. Scusate un po' di lettura, ma io sono napoletana, spero che capisci stessa, porto un castello lontano. La televisione è ritta, è scoppiata pandemia, e ora voglio non voglio, sono costretta a casa mia. Ci sta in giro un virus, capiglia tutto quanto, cattar, freddo, tosso e ti fa sentire stai stai. Non puoi scendere, puoi vassare, manca mano ti puoi dare. E si incontra con qualcuno, a lontano a salutare. E poi bene nostro, perché il suo male è contagioso. E ora tutto all'improvviso si è fermato tutto coso. E ora come facciamo? Senza faticare. Noi teniamo speso, i figli raccambi. Forza che questo fatto è una maledizione, perché l'essere umano si ammerda una lezione. Si è diventata fritta e senza cuore, non sappiamo manca più come si fa l'amore. Egoisti, prepotenti, e col cuore avaro, tutti dritti in fila indiana, solo dietro al dio danaro. Tutti i giorni ci scendiamo, e corriamo senza sosta, perché affaticati, perché purtroppo la vita è tosta. Ma non ci fermiamo mai, manca un minuto, e nel frattempo i figli crescono, e già sono così bello. Corriamo, corriamo, mutiamo è più veloce, non aspetta se ne va, a cire e metto in grossa. E ora come per magia, studiamo si è fermata. Come si è camminato, se fosse sfastriata. Allora forza che questo male, non è una punizione, ma è per tutto quanto una grandissima occasione. Ma noi combattendo a scena, ci sentimmo carcerati, e pensammo che signora, e noi si è già scordati. Pensammo sulle cose che ormai abbiamo fatto, e non riuscimmo a trovare senza, per continuare a camminare. Ma passavamo milioni, pure una cretinata, a chi vicino il mare, a ci fare una camminata. Corriamo a mamma, pure in due cimiteri, a non so che la foto, a dicere una preghiera. La signora rimbetta, che è nessuno povero, pure a esse invitassimo, per ciò prendere un caffè. Noi siamo così, diamo tutto per scontato, e apprezzammo tutte queste cose, solo perché ce l'hanno levata. Pensammo a condurito. La colpa è due cinesi. Noi ce l'ha già morto, cucchielli francesi. Per tutto il tempo fa guerra, sciocchi esseri umani. Ma sapete che non per sempre, ci sarà un domani. Questo male non risparmia, non fa eccezioni, italiana, cinese, francese, senza distinzioni. Perciò, mi raccomando, pure a te così potente, a ricordati che chi sorge, non si accatta proprio niente. Questa situazione, assurda e surreale, ci serve per capire, che siamo tutti tal e quale. E allora forse, tutto quando, parliamoci a campare. Prima che ti è invenuta a voto, a come ci accamare. Parliamoci, avvasiamoci, tendiamoci le mani, prendiamoci più cura dei bambini e degli anziani. Guardiamoci dall'occhio, pure senza parlare. Perché forse è chiesto senza, per continuare a campare. Scusate un po' di violetta, io sono napolitana, ma da stregni forte forte, pure a te Castello Ondana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.